Firenze è esplosa in occasione di Pitti Immagini, siamo ormai a più di metà del percorso della quattro giorni di moda maschile, non solo. Firenze in questo momento sta respirando una atmosfera davvero incredibile. Siamo in via Martelli, praticamente in piazza Duomo, con lo sfondo del battistero firmato Laudomia Pucci, ma c'è anche una grandissima novità, lo stand per la prima volta in assoluto di My Vintage Academy che rappresenta con un archivio l'artigianalità toscana, fiorentina, a partire dai cappelli ma anche molto altro. Ce ne parla Barbara Ricchi che è la mente di My Vintage Academy. Salve, My Vintage Academy che cos'è? My Vintage Academy è esperienza di artigiani, è lavoro, è il backstage del fashion, è tutto quello che dietro la moda non si vede ma esiste ed è importante. Questo stand vuole far rappresentare la necessità di avviare i ragazzi, i nuovi ragazzi, i giovani, a entrare dentro questo lavoro perché c'è la possibilità di grande carriera. Ecco qui vediamo la lavorazione dei cappelli in tutte le sue fasi, un lavoro molto meticoloso che richiede tempo, richiede grande esperienza ma sono tanti anche dei stranieri che ormai sono assorbiti in questa manualità. Sì sono assorbiti e nello stesso tempo abbiamo tanti visitatori perché piace vedere com'è fatto un oggetto. Oggi nel mondo virtuale niente vediamo più di quello che è il passato, questo è il nostro passato, questo è le nostre origini, la Toscana è fatta di artigiani, non è fatta di industriali.